Nome. Colin Ireland. Soprannome. The Gayslayer. Numero vittime. 5. Modus operandi. Soffocamento. Colin Ireland nasce nel 1954 in Inghilterra. Viene cresciuto dalla madre e dai nonni materni. Lui stesso si descriverà come un piccolo, macilento animaletto che prendeva sempre le botte peggiori dai compagni di scuola. Durante l'adolescenza, Ireland è costantemente nei guai, inanellando una serie di arresti per furto, furto d'appartamento e distorsione. Trascorre il periodo di due condanne nel riformatorio Borstal, dopodiché si ritrova in mezzo a una strada e si arruola nella legione straniera francese. Anche da adulto, rimane piccolo di statura, ma sviluppa ugualmente una passione per il mondo del paramilitare e per l'addestramento survivalista. A Ireland si sposa due volte e in entrambe le occasioni divorzia a causa del suo temperamento violento nei loro confronti. Si offre come volontario per la gestione di un rifugio per vagabondi, ma viene cacciato via nel dicembre 1992 a causa del suo temperamento violento e collerico. Un collega di quel periodo lo descrive come una persona problematica, perennemente frustrata, che non sapeva quello che voleva dalla vita. Il pensiero che ossessionava la mente di Colin a Ireland era quello di diventare un serial killer ed essere conosciuto come tale. Così Ireland decide di strangolare cinque omosessuali pianificando con cura ogni omicidio. Sceglie le vittime nella comunità dei sadomasochisti perché è convinto che sia più facile convincersi a farsi legare volontariamente pensando di partecipare a qualche gioco erotico. In quel periodo si trovava a Londra. Gli omicidi iniziarono l'8 marzo 1993 e cessarono nel giugno dello stesso anno. Tre mesi di pura follia. Peter Walker, 45 anni, coreografo, ebbe un rapporto sadomaso con Ireland, il quale approfittò della situazione per legarlo. Una volta immobile gli mise un sacchetto in testa e due orsacchiotti sul ventre in posa 69. Ireland se ne andò lasciando Peter soffocare a morte. Christopher Dunn, 37 anni, bibliotecario, fu trovato senza vita, nudo all'interno di un'imbragatura. La polizia non lo collegò al caso precedente poiché si pensava che la causa della morte fosse un incidente dovuta al gioco erotico. Perry Bradley, 35 anni, rugbista, incontrò il suo assassino in un locale gay. Passata la serata insieme, Ireland propose di andare nell'appartamento di Bradley, il quale accettò. Una volta a casa, Ireland gli disse di legarsi ma il rugbista non era molto per l'idea. Allora, con la scusa di non riuscire ad avere un rapporto sessuale senza oggetti di sottomissione, convince Bradley a legarsi. Una volta immobilizzato, l'assassino lo girò sul letto a pancia e in giù, gli mise un cappio al collo e minacciò di torturarlo se non gli avesse dato i soldi dalla sua carta di credito. La vittima gli diede il pin della carta ma Ireland, non soddisfatto, lo strangolò a morte con il cappio e successivamente gli appoggiò un orsacchiotto sulla schiena. L'assassino, furioso perché non gli era stata fatta abbastanza pubblicità, decise di colpire ancora dopo soli tre giorni dalla morte di Bradley. Andrew Collier, 33 anni, guardia giurata, conobbe Ireland, il quale iniziò il corteggiamento. Il metodo d'approccio era sempre il solito. Passavano la serata insieme per poi chiedere di andare nell'appartamento della vittima. Una volta a casa, il killer legò Collier, chiese i dati bancari ma Collier non glieli volle dare. In preda all'ira, Ireland uccise il gatto della vittima e poi strangolò a morte anche lui. Mise un preservativo sulla bocca del gattino morto e la sua coda nella bocca di Collier. L'assassino lasciò parecchi indizi come le impronte digitali. Durante le indagini, un'altra vittima cadde nella trappola del pazzo. Emmanuel Spiteri, 41 anni, cuoco. Una volta giunti nell'appartamento, venne legato, soffocato a morte. Successivamente diede fuoco all'appartamento. L'assassino stava sviluppando un modus operandi sempre più violento. Ormai i media parlavano di un assassino seriale che aveva preso di mira la comunità gay. Anche la polizia ormai aveva collegato gli omicidi ad un solo uomo. Fu una telecamera di sicurezza ad immortalare l'assassino in compagnia di Emmanuel mentre aspettavano il treno per tornare a casa. Non persero tempo. È il 20 dicembre 1993 quando lo arrestarono e gli chiesero anche le impronte digitali da confrontare con quelle trovate nell'appartamento di Collie. Combaciavano. L'uomo confessò subito tutti i cinque omicidi. Giudicato pericoloso, spietato, psicopatico, fu condannato all'ergastolo. Muore nel 2012 per cause naturali.